Qui siamo a Posada, in Sardegna. Durante il weekend le fiamme hanno colpito la regione in più di 42 punti. 12 di questi incendi hanno richiesto l'uso dei mezzi aerei dei vigili del fuoco. Vedete le quattro colonne di fumo che si spostano verso sud-est? Gli incendi di domenica pomeriggio sono stati talmente imponenti da essere visibili ai satelliti meteorologici. È un problema non soltanto italiano ma europeo. Tra luglio e agosto in Europa meridionale sono bruciati oltre 130.000 ettari di terra. E l'area mediterranea è una delle zone di terra con la più alta varietà di animali e piante in tutto il mondo. Secondo gli esperti gli incendi hanno sempre fatto parte del ciclo di vita degli ecosistemi mediterranei. Ma è stata l'attività dell'uomo che negli anni ha rallentato i processi fisiologici di recupero delle piante. A questo poi si sommano l'azione dolosa dell'uomo che appicca deliberatamente gli incendi e il cambiamento climatico. Così gli incendi diventano più comuni, imprevedibili e difficili da domare. E quando gli ecosistemi bruciano per tanto tempo non riescono a rigenerarsi in modo efficace.